della comunità, una banca locale, questa idea che generosamente ci è stata offerta dal signor Manna, dalla società MC Investment, l'abbiamo accolto di gran favore perché essendo noi ormai l'unica banca del territorio e essendo questa struttura una struttura che ha vissuto un'epoca gloriosa, quelli là un po' più grandi i tipi che hanno la mia età hanno vissuto tutto il periodo glorioso della Juve Caserta questa grande squadra di basket che vinse il campionato e quindi questa struttura che vuole rinascere grazie alla visione di una società importante perché già era il settore e quindi riprendere questa struttura che accoglierà sarà sostanzialmente una struttura che aggrega socialmente perché non ci sarà solo lo sport, ci saranno anche eventi, concerti, qualunque tipo di evento e raduno, incontri, quindi mi sembrano tutti valori che siano molto appropriati con la missione di una banca di credito cooperativo questo è il motivo, noi abbiamo anche un'associazione Giovani Soci della Banca intendiamo promuovere delle attività ed essere partner di una società che investirà ancora tantissime altre risorse in quella struttura per ridare luce, gloria a quella struttura così importante per noi è un motivo di grande orgoglio quindi la banca di credito cooperativo non tradisce assolutamente i suoi valori nell'entrare in questo progetto anzi va a rafforzare i legami con il territorio perché si farà con la società proprietaria e con il comune di Castelmorrono ovviamente il sindaco qui è rappresentato perché il palazzetto si trova a Castelmorrono e quindi è giusto che sia così questa sinergia deve essere una sinergia foriera che deve produrre risultati per il territorio noi non siamo, essendo una banca di credito cooperativo io non sono il presidente della banca ma non sono i proprietari della banca i proprietari della banca sono 4.500 persone però dobbiamo necessariamente perseguire i nostri fini statutari questa opportunità ci consente di raggiungere ulteriormente i nostri fini statutari perché noi andremo a produrre, a promuovere benessere culturale e sociale perché uno spazio così importante che sarà ulteriormente ampliato mi dicevano che diventerà tra i più grandi palazzetti strutture composte dal coperto di tutta Italia quindi immaginate che cosa può diventare quella struttura quindi dare il nome a questa struttura pala, bcc, terra di lavoro per noi significa realizzare una parte importante che è della nostra missione sul territorio perché io ci tenevo molto a dire questo perché non è che la bcc sta abbandonando quella che sono le sue finalità e vuole fare la banca commerciale assolutamente ma vuole entrando in questo progetto secondo me importantissimo forse il più importante che negli ultimi anni abbiamo visto sul territorio e noi abbiamo una competenza di 76 comuni come banca non potevamo non partecipare a questa grande iniziativa quindi ringrazio veramente di cuore l'amico Rino Manna che è un esperto del settore perché le cose le deve fare chi le sa fare ognuno deve fare il suo lavoro altrimenti sbagliamo l'ingegnere deve fare l'ingegnere il direttore deve fare il bancario il signor Rino Manna fa l'imprenditore perché solo così le cose riescono ognuno deve fare il suo lavoro e noi crediamo molto in questo perché possiamo riaffermare ulteriormente i valori della cooperazione che realizzano quella famosa coesione sociale tanto invocata durante la pandemia noi abbiamo avuto un boom queste banche in Italia hanno avuto un boom molti pensavano che avevano finito di vivere con la riforma bancaria del 2016 invece no addirittura io sono convinto che oggi la nostra identità valoriale è molto più conosciuta ed apprezzata noi siamo la banca delle persone la banca delle relazioni oggi voi andate in una banca a parte la digitalizzazione a cui noi non abbiamo rinunciato noi siamo banche molto innovative però non abbiamo rinunciato al rapporto, alla relazione all'accoglienza al parlare con le persone perché anche cerchiamo di umanizzare la finanza che di per sé è una cosa la più arida che esiste e soprattutto noi diciamo sempre essere di aiuto alle imprese alle famiglie ai giovani del territorio noi abbiamo raggiunto il nostro fine non facendo gli utili che tra l'altro come vi dicevo prima vanno a patrimonio non vengono distribuiti ai soci perché siamo una comunità ma andiamo a rafforzare un patrimonio che serve a fare ancora meglio e di più il nostro ruolo di banca del territorio ecco questo era importante sottolinearlo e quindi voglio che questo io questo voglio leggere nei prossimi giorni che non ci siano fraintendimenti oppure che noi questa operazione la facciamo nel pieno rispetto della nostra identità valoriale del nostro modello ripeto rafforzandolo e quindi c'è questo ritorno commerciale ma per realizzare una cooperativa bancaria forte punto di riferimento per tante imprese e famiglie che purtroppo in altre istituzioni finanziarie trovano la porta chiusa noi la porta la vogliamo tenere sempre aperta nonostante le regole siano molto rigide io sto in questa banca da 25 anni ma vi posso assicurare quello che è successo negli ultimi 4-5 anni è un qualche cosa di indescrivibile ma non vi voglio soffermare su questo perché noi tenacemente come si dice manteniamo dritta la barra dei valori noi siamo una banca che promuoviamo il territorio promuoviamo il bene comune e cerchiamo di farlo nonostante le mille difficoltà e le avversità che in questo paese come sapete quando fa qualcuno cosa di buono e lo sappiamo tutti quindi veramente si fa fatica ma ci crediamo noi siamo una squadra una bella squadra di collaboratori c'è il dottore francese il direttore generale ci sono 12 direttori generali il dottore Stefano Martucci il direttore commerciale che ha curato in tanti mesi questo progetto non è nato ieri questo progetto nasce già da tanti mesi di studio di analisi di riflessione lo stesso consiglio di amministrazione della banca ha riflettuto molto e mi sono convinto sempre di più che questo progetto è un progetto del territorio quindi è un progetto che va a valorizzare un territorio che è sempre ultimo in tutte le classifiche nazionali prodotte da solo 24 ore che è uno delle tante dove questa provincia viene sempre noi ci vogliamo anche questo progetto deve servire a far sì che la nostra provincia sia anche cominciata ad additare con qualcosa di positivo e non sempre di negativo perché c'è tanta ricchezza ci sono tante eccellenze di questo territorio abbiamo tante cose da dire ed è giusto è arrivato il momento che queste cose vengano dette va bene quindi ecco io non vi dico più niente passo la parola all'amico Rino Manna scusatemi che io non ho voce sono un po' raffreddato quindi mi sforzerò a farmi comprendere innanzitutto ringrazio il presidente il direttore e tutto il gruppo della BCC che mi sono stati vicini e hanno creduto in me in questo progetto che noi andremo a realizzare sicuramente la loro presenza ci dà orgoglio e ci rende più partecipi e più attenti a fare il nostro lavoro ora io precedentemente avevo già dato delle notizie che purtroppo non abbiamo potuto mantenere in quanto abbiamo avuto dei problemi e di furti e di cambio di soci ora abbiamo già completato i nostri rilievi con il dottor Riello l'ingegnere Natale per sapere esattamente quelle che sono le possibilità di portare il palazzetto a una capienza non meno di 8000 posti perché questo perché attualmente quello che sono realmente le necessità delle grandi produzioni perché noi dobbiamo pensare alle grandi produzioni non dobbiamo pensare ai piccoli concerti quelli non interessano li fanno nei teatri noi abbiamo bisogno di avere grandi produzioni di capacità non meno di 8000 e tra le altre cose oggi gli artisti purtroppo non sono secondo me capaci di poter prendere il pubblico e trasmettere realmente quello che loro vorrebbero trasmettere ma si servono di tutte apparecchiature led e quant'altro e tutto questo comporta delle enormi spese quindi le spese richiedono un numero importante di spettatori per coprire le spese quindi noi abbiamo bisogno di realizzare un palazzetto tecnologicamente molto all'avanguardia altrimenti non potremo assolutamente combattere la concorrenza noi abbiamo Salerno e Leboli che hanno fatto un palazzetto che hanno rimodernato il Palapartenove di Napoli è una bella struttura però purtroppo noi abbiamo una necessità e una carenza la necessità di poter portare delle persone sedute gli spettatori dovrebbero essere accomodati invece non è possibile perché la nostra capienza di 6500 posti dà la possibilità a soltanto 800 persone di stare sulle tribune quindi se noi non abbiamo una struttura capace di poter dare agli spettatori la comodità di stare seduti che poi si alzeranno in piedi sicuramente e balleranno però il biglietto ha una differenza di prezzo il posto seduto ha un prezzo il posto in piedi ne ha un altro quindi noi dobbiamo cercare in questo momento con l'aiuto dei tecnici di riuscire a portare il palazzetto a una capienza superiore io ho avuto diverse richieste già da adesso di portare delle grandi produzioni degli artisti a livello nazionale e internazionale ma purtroppo in questo momento non possiamo assolutamente decidere i giorni in cui noi siamo pronti per poter aprire a tutti e anche al basket perché tra le altre cose io ci tengo a precisare che questa struttura sarà una struttura di aggregazione come diceva il presidente aggregazione per i giovani per lo sport e per la musica per convegni per tutti noi dobbiamo cercare che questa struttura sia un punto di riferimento e un punto di accoglienza di tutto il casertano perché caserta veramente merita qualcosa di importante che noi speriamo di realizzare con l'aiuto dei nostri tecnici ora per l'anno prossimo noi speriamo dopo che io sarò consultato con i tecnici e vedere le condizioni e le possibilità e nonché anche un fatto economico perché realizzare adesso ristrutturare il palazzetto si potrebbe fare con una spesa relativamente bassa però per quello che io vorrei realizzare e ritengo che sia necessario tutto questo bisogna cercare di fare un discorso più importante ora il discorso importante lo stabiliremo nei prossimi giorni quindi io non posso in questo momento dire quando saremo pronti se non dopo che abbiamo realizzato un progetto che presenteremo alla stampa io ringrazio il sindaco che ci sta vicino e cerca di accontentarci in tutti i modi purtroppo quelli che sono i problemi del territorio li sappiamo un po' tutti abbiamo subito dei danni dei furti stiamo cercando di sempre superarli nel miglior modo possibile anche con l'aiuto del comune di Castelmorone che io ringrazio spero quando prima darvi delle notizie più precise per l'apertura e per poter insieme brindare al nuovo Palam BCC io mi ringrazio e vi auguro un punto buone feste fatte e buon anno a venire e speriamo che il 2021 24 sia un anno della visitazione di tutto il Palam Rinascio no perché il Palamagio sicuramente non è mai morto ma per il fatto della revisitazione di quello che diceva Rino guardate io sono stato compulsato già nel 2022 quando si inizia da parlare del Palamagio e io fui molto chiaro all'epoca sono stato chiaro un'altra volta e sono chiaro poi adesso noi per il passato abbiamo subito dei torti per quanto riguarda la gestione del Palamagio perché mentre gli altri enti acquisivano visibilità nella gestione del Palamagio il comune di Castelmarrone era obbligato ad avere la vigilanza i vigili era obbligato a fare il servizio e quanto altro e poi alla fin fine il Palamagio era di Caserta questa situazione qua sinceramente mi ha un poco avareggiato e mi ha anche molto deluso perché tante volte quando io venivo invitato quando ero assessore con delle anche al patrimonio si parlava sempre del Palamagio di Caserta questa non significa una versione di campanerismo ma una versione di reale il Palamagio sorge nel territorio del comune di Castelmarrone io ho avuto il piacere di conoscere il signor Manna e subito apprezzato il suo modo di essere imprenditore imprenditore onesto imprenditore fattivo e imprenditore che vuole quando si vuole un obiettivo lo raggiunge e noi come amministrazione qua c'è l'assessore anche all'urbanistica il dottore Rillo abbiamo sempre dato la massima disponibilità come comune naturalmente la massima disponibilità non significa noi apriamo il cordone della borsa e diciamo fate quello che volete vi orientate oppure usate quello che volete nel rispetto delle norme delle regole nel rispetto della legge noi siamo ben lieti di dare una mano al signorino Manna perché poi e alla società e a tutti i partner di questa attività perché poi alla fin fine il vantaggio che si tratterebbe al nostro comune è un vantaggio competitivo e di questo fatto qua io ne sono cosciente e tutto quello che tengo a precisare lo disse all'epoca nel 2022 la prima presentazione gradirei quando si parla di Pala BCC il nome comune di Castelmotone Pala BCC Castelmotone ma questo non significa che è un fatto campanilistico siamo a Castelmotone e penso che sia giusto e doveroso dare il giusto riconoscimento al mio comune che è stato per il passato sempre distrattato questo comune di vista perché noi lo dico ai me perché lo dico adesso noi col Palamaggio abbiamo anche perso svariate centinaia di migliaia di euro sia per quanto riguarda la Tali sia per quanto riguarda le altre imposte comunali adesso sono stato bravo come sindaco a recuperare una cifra molto considerevole per IMU post sentenza di fallimento sono entrato anche nella procedura antifallimento e quindi diciamo io ho recuperato una cifra molto molto importante ma questo è stato è stato un nostro un nostro modo di operare dell'amministrazione perché come dico a Semorrone andavo a fare il servizio di raccolta di legge urbana e alla fin non veniva mai pagata e questo penso che da nessuna parte del mondo sta bene io do un servizio ma questo servizio va a ricadere sempre e solo sulla cittadinanza noi vogliamo essere persone che vogliamo stare a disposizione dell'impresa perché il mio mestiere è fare il commercialista quindi io capisco molto molto bene quelle che sono tutte le dinamiche di un'azienda i costi la gestione e quant'altro però poi non deve ricadere sui mei concittadini perché sono già concittadini che vengono bistrattati da tante altre cose siamo un paese di 3.800 anime non abbiamo entrate straordinarie non abbiamo alberghi non abbiamo industrie quindi ci dobbiamo mantenere su quelle che sono le potenziali che offre il nostro territorio e il nostro pala maggior il pala bcc potrebbe essere un vantaggio quindi di vangare il nostro ente sia in termini di entrate tributate sia in termini occupazionali sia in termini di visibilità sia in termini di immagine quindi io l'ho detto in Riva lo ripeto adesso il comune l'amministrazione è a totale disposizione nel rispetto dei ruoli delle regole e quant'altro certamente se viene chissata la luna rispetto a quelle che potrebbe essere insomma però penso che il signor Mann ha capito la disponibilità della nostra amministrazione naturalmente noi non è che pretendiamo la pensionina tu lo sai quando c'è possibilità di dare una mano al mio territorio tu mi hai dato l'ampia disponibilità e hai ricevuto l'ampia disponibilità da me per quanto riguarda tutto quello che c'è da fare andate avanti come comune vi saremo vicini non vi creeremo un problema perché non è giusto che un'impresa che venga nel mio territorio e fa impresa e porta questo amore di cittadinanza o questo amore di persone certamente non ci sarà nessun vincolo nessuna regola l'unica cosa che vi chiedo è di tenere in debito di considerazione anche il mio territorio noi adesso stiamo parlando di PUC e vediamo come possiamo fare anche per entrare nell'ottica di ero da mano anche da altri nostri concittadini che potrebbero sfruttare questo volano del Palabiciccio io vi ringrazio vi ringrazio e auguro migliori questione alla proprietà e a tutte le persone che stanno vicine e lavorano per questa bellissima iniziativa grazie se qualche domanda Francesco Marino Casetta allora questa diciamo non è la prima presentazione è stato fatto anche riferimento il dottore Manna ci diceva che non ci sono un momento in grado di validarci dei tempi per l'apertura e la partenza volevo capire però un ordine temporale rispetto al completamento dei lavori ve lo sarete dato insomma tenuto conto che in passato sono state date delle scadenze che ovviamente ambiamente disattese e poi volevo chiedere rispetto alla vicenda sportiva se con la Juve Caserta c'era già stata un'interlocuzione per capire come mettere a disposizione il campo anche perché il palazzetto diciamo rispetto al brand sportivo è sempre stato un segno di riconoscimento il sindaco di Casselmorone si arrabbierà ma dell'intera provincia e dell'intero mezzogiorno rispetto al mazzo dunque in effetti scusami le mie precedenti dichiarazioni non sei che sono state disattese abbiamo avuto dei problemi che io ho ampiamente illustrato e conosco un po' tutti abbiamo avuto dei problemi ora dare delle date ancora oggi prima che di non aver ascoltato i tecnici per poter stabilire quello che si dovrà fare per portare la struttura un ordine temporale un anno un anno e mezzo in questo momento io attendo l'esito delle prove che noi abbiamo già realizzato dopodiché dovremo stabilire se ristrutturare il palazzetto nello stato in cui si trova o realizzare una struttura di 8000 posti quindi questo dipende dagli esami dopodiché noi faremo ma in questo momento di fare una struttura ex novo quindi abbattere il palazzetto assolutamente non pensiamo di fare una cosa del genere assolutamente per quanto riguarda il basket io ho avuto degli incontri con il presidente abbiamo già cercato e abbiamo trovato anche una possibilità di mettere a disposizione il palazzetto e anche abbiamo stabilito dei termini e una collaborazione effettiva anche economica però poi abbiamo un po' tralasciata perché in questo momento dobbiamo assolutamente cercare di realizzare il palazzetto poi pensiamo a tutte le altre cose sicuramente il pala BCC sarà un impianto sportivo e musicale sicuramente quindi non pensiamo assolutamente di dover sfrattare la Juve Caserta anzi abbiamo piacere che ci sia dedicheremo anche uno spazio ai reperti della Juve Caserta dove ci sarà scritto Palà Maggiò o signor Maggiò l'ingegnere che ha costruito questo bellissimo impianto che è giusto che sia così che dobbiamo a lui che se oggi esiste ancora questo impianto Goldweb TV Gianluca Pota una domanda a testa volevo sapere dal Presidente come si concreta l'impegno della BCC sponsorizzazione del Palà Maggiò e Allora dicevo all'inizio questo è un progetto molto ampio poiché non se ne conoscono i tempi ovviamente noi abbiamo cominciato a dare una mano proprio come banca alla società quindi facendo il nostro lavoro di finanziare un'importante iniziative che nasce sul territorio tutto il resto è chiaro che verrà perché adesso c'è un protocollo di intesa poiché ci sono tempi che non come diceva giustamente l'amico Manna non se ne conoscono esattamente e quindi noi ci siamo impegnati avendo appunto avendoci dato la possibilità di dare il nuovo nome a questa struttura che nascerà di Palà BCC della di lavoro sicuramente la banca cercherà in tutti i modi di essere non solo partner finanziario ma anche partner commerciale di tutta l'iniziativa fermo restando ripeto la nostra vocazione di banca del territorio che il tutto lo si fa sempre e solo per promuovere questa terra che come dicevo viene sempre abitata cosa intende per partenere commerciale anche lo spieghiamo siamo un po' più chiari è evidente che ogni qual volta nella struttura si realizzeranno eventi sarà promosso anche il nostro marchio e quindi è chiaro che è un'attività come in questo senso intendo così come probabilmente ripeto ma non diciamo cose che poi non sappiamo come si andranno a concretizzare è probabile che la banca potrebbe aprire mettere un banco mattevoluto un ATM nella struttura potrebbe mettere un box che pubblicizzi con i giovani soci della banca vede prematuro oggi poiché veramente il progetto diciamo che invece è stato rappresentato è molto ampio però richiede veramente una sinergia che mi fa piacere che il sindaco che giustamente rivendica e ci mancherebbe il Palavaggio sta a Castelmo Rù in provincia di Casetto ma sta a Castelmo Rù e io diciamo questa 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 preoccupazione la comprendo benissimo perché anche questa banca che è una banca che è nata a Casagiove 102 anni fa i casagiovesi ma la banca è la banca di Casagiove è la banca di Casagiove che oggi si chiama Bicci Terra di Lavoro perché i tempi le necessità le istanze si sono evolute nel tempo e che richiedono che una struttura per essere valida non poteva tenere il nome di Casagiove perché era troppo ecco per fare un esempio parallelo per così dire questo è un poco e quindi le cose diciamo la sostanza di questo accordo è questo quindi innanzitutto il naming quindi il nome poi un'attività di promozione ovviamente della banca con tutte le sue attività perché la banca produce anche eventi che saranno ovviamente ospitati nella struttura con i nostri giovani e quindi e poi un'eventuale locazione di spazi dove noi possiamo continuare a fare banca del territorio due domande per il signor Mann prima volevo approfondire quello che aveva detto in precedenza al collega direttore di Caserta Focus Francesco Marino che significa sorgerà eventualmente un'altra struttura perché il Palamaggio non verrà demolito ma lei ha detto valutiamo un'altra struttura cioè è possibile che si crei un'ulteriore terza struttura perché lì c'è la palestrina e il Palamaggio no no lei la struttura è il Palamaggio e non pensiamo minimamente di doverlo abbattere verrà ristrutturato e verrà ristrutturato secondo quello che sono le informazioni dei tecnici se si potrà realizzare una struttura fino a 8.000 posti o oltre gli 8.000 posti oppure restare una struttura di 6.507.000 posti quello che attuale attualmente è stata data l'agibilità dalla commissione perfettizia e poi un'altra situazione ci dice un po' la formazione societaria nuova dell'AMC Investment giusto per fare chiarezza la formazione l'abbiamo anche indicato sopra il comunicato stampa il 70% della non soleventi che io sono il legittimo proprietario e il 30% alla società PSB del consulting di Napoli perfetto è una domanda per il sindaco sindaco tenendo conto di ciò che diceva è possibile che quella zona possa essere almeno videosorvegliata da una telecamera visto i continui furti e i pericoli di furti che comunque in quella zona ci sono sempre stati da quando esiste il Palamaggio è patrimonio come diceva lei il Palamaggio nuovo Palabcc del comune di Castelmorro guardi il comune di Castelmorro ha fatto già richiesta per quanto riguarda la videosorveglianza solo che siamo entrati in grado d'oro ma non abbia avuto l'approvazione del progetto noi cerchiamo di rendere sicuro tutto il comune di Castelmorro naturalmente essendo una struttura privata io credo che la videosorveglianza la debba comunque installare il privato il comune potrà mettere delle vicinanze delle telecamere per evitare problematiche da questo punto di vista qua noi sicuramente ci muoveremo per una cosa del genere ma all'interno della struttura io penso che questa convete direttamente alla proprietà per quanto riguarda i furti guardi per il passato a me non mi risulta che ci sono stati furti in quella zona ultimamente ci sono stati furti ultimamente ma per il passato fatta eccezione per l'incendio che è avvenuto ma non mi risulta che ci sono stati furti sempre cavi di rame purtroppo è un problema che capita un po' da tutte le parti ma certamente il nostro terreno da questo punto di vista è abbastanza tranquillo anzi noi possiamo freggiarsi di essere un paese molto tranquillo da questo punto di vista abbiamo una stazione dei carabinieri che funziona in maniera molto perfetta e molto corretta e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli però l'impegno dell'amministrazione c'è è costante e continuo io mi relaziono sempre con il signor a riguardo perché avere una struttura sul nostro comune è un fiore all'occhiello anche per l'amministrazione ma soprattutto per il paese grazie a tutti e tre c'è qualche altra domanda il nome è casetta l'andone di campagna vabbè una la rivolgo al presidente Ricciatti più di altro mi interessava sapere una volta fatti i lavori di andare in questo di da la maggiore